Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Oggi continueremo il montaggio del telaio della Lamborghini Miura con la venticenquesima uscita. Ma prima di iniziare, come al solito, iscrivetevi e attivate la campanella. Nella rivista di oggi si parla del debutto della LP500 al Salone di Ginevra. Qui abbiamo anche la scheda tecnica. Qui abbiamo l'Atom Inno al Sole e poi le istruzioni per montare i pezzi allegati con questo fascicolo. E infine qui si fa vedere i pezzi che saranno allegati con la prossima uscita. Adesso vediamo i pezzi di oggi. Oggi troviamo le staffe posteriore dei bracci delle sospensioni sia di destra che di sinistra. Questi pezzettini qui. Abbiamo sia i bracci superiori delle sospensioni di destra e sinistra, i supporti interni dei bracci, le viti G, le viti A e tipo B. Adesso invece passiamo al montaggio di questi pezzi. Grazie. 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 Ecco come si presenta il telaio posteriore della Lamborghini Miura dopo aver montato i pezzi allegati con la 25esima uscita. Allora se il video vi è piaciuto lasciate like e un commento. Grazie e alla prossima. Ciao ciao.